E' stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso in codice rosso. Il conducente dell'automobile che questa mattina si è scontratta frontalmente contro un furgone mentre procedeva in direzione Lavarone. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Barcarola nel comune di Schio. L'impatto frontale tra i due mezzi è stato violento, ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro. Sul posto, oltre alla 118 con due ambulanze, sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. inevitabili rallentamenti al traffico per tutto il corso della mattinata.